Dunque, con la festa siamo all'interno di un esperimento, di un'operazione originale. O forse siamo arrivati al punto in cui il futuro è diventato presente. Quindi il web, che è zona franca, film accessibile a tutti, in qualunque momento, che non ha più censura. Che bella notte. Nessuno chiuderà gli occhi. Troppe cose da vedere. Con dei punti di domanda, però, perché quando vai al cinema paghi un biglietto e fino alla fine ci stai, tendenzialmente è difficile che tu riesca dalla sala. Sappiamo bene che invece davanti al computer è un attimo farsi distrarre da altre cose, mettere in pausa, rimandare la visione ad un altro momento. Quindi, insomma, bisogna anche essere più rapidi nel catturare il pubblico e non è facile. Per quanto riguarda il lavoro da dietro, il lavoro di solo interpretazione, quello non cambia se è per il web, per la tv o per il cinema. Cambia il contenuto e quindi chiaramente, insomma, stiamo a vedere, sono molto curiosa di che cosa succederà.